fuori su serve a far casino per forza che devi fare prego ragazzo prendi prendi chiappa chiappa prendi tutto quello che puoi la stai dura senza paura la stai dura senza paura la stai dura senza paura e basta di lavorare non si torna la defenderima torna dura perciò dico si devono posizionare perché sono gestiti ma non si può posizionare sopria! 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 senza paura! енora senza paura! Siomperò, 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 siomperò domani, siomperò domani. Ma va a te, mafia! Siamo ancora in piazza, sappiamo tutto quello che è successo ieri, sappiamo cos'è successo al nostro campagno, sappiamo cos'è successo ad Adilio. Detto! Dentro, 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 dentro Merda! Assassino da merda! Assassini! 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 Vieni noi i borgoni per tenere l'acqua! Vieni noi i borgoni per tenere l'acqua! Liberiamo qua! Liberiamo! Dovete lasciare libero lo spazio! Lasciamo libero qua visto! Dentro il quartiere! Va bene? Dovete lasciare libero lo spazio! Tutto il quartiere! Noi abbiamo i borgoni per tenere! Come noi abbiamo i borgoni per tenere! Vuoi rimuovere i borgoni per i borgoni per tenere! Non uspettiamo libero lo spazio! Grazie! Grazie 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 Grazie